Musica Evoluzioni importanti sul cielo della Lombardini e del suo evento per i 40 anni, siamo con... Gianmarco Bruschi della Enet Group SRL Il quale ha trascorsi con la Lombardini, o sbaglio? Esattamente, sono stato con loro fino a 4 anni fa Un ricordo bello di quegli anni della Lombardini? Sono tutti belli, non posso dire altro che di essermi trovato benissimo con tutto lo staff e tutta la direzione della Lombardini Sono stati veramente dei momenti molto di formazione e di crescita Ed oggi in sintonia con le riprese video di Rete Zero dal basso, dall'alto Vieni a riprendere atmosfere veramente sognanti, magiche, indimenticabili per un evento unico Esattamente, grande festa oggi, veramente un evento straordinario I 40 anni della Lombardini, veramente un grande evento Ringrazio di essere qui da parte della direzione e mi hanno dato questa opportunità, grazie mille Sicuramente grazie a te dalla direzione, già l'ho percepito e l'ho verificato di persona Sei qui con un drone, spiega ai profani di che cosa si tratta Quell'oggetto volante che dentro di sé ha una telecamera È un oggetto comunque che ha quattro motori, è un quadricottero E si può alzare per varie centinaia di metri, è telecomandato Come vedete in questo momento io sto, scusate lo sguardo non alla telecamera Ma sto guardando cosa sta facendo lui E quindi ha la possibilità di accedere all'interno di una telecamera GoPro standard E fare delle riprese veramente emozionanti dal punto di vista visivo Grazie, grazie di cuore, ti faccio concludere con gli auguri alla Lombardini Grazie di essere qui e grazie a voi Questo grande evento dei 40 anni Scusate un attimo Ok Scusate, dovevo far atterrare il mio quadricottero Volevo fare un grande augurio a tutte le persone che lavorano qui dentro Io sono stato uno di loro E quindi posso dire un grande augurio e grazie per questa bellissima festa Grazie a tutti Grazie a tutti